Credo che la maggior parte di voi utilizzi per esempio Skype come strumento professionale, ma noi vi fate bisogno di questo strumento di comunicazione, visto ancora come passa tempo, vedete proprio la mentalità che deve essere istruita, quindi quello che Italia mi semplificia soprattutto è di creare cultura di impresa, attraverso una serie di iniziative che vengono a consapevolezza delle possibilità che ci possono essere anche attraverso il business working, quindi noi ci siamo prefissi sicuramente di abbattere il forte spirito individualista che danneggia la Sardegna, creare anche consapevolezza però di sé, di imprenditori, perché forse troppo spesso siamo stati abituati a pensare, se non da noi o magari da, forse da un po' dei nostri connazionali, di essere il panellino di coda, noi pensiamo di avere molte potenzialità, quello che ci ha fregato è il fatto di non aver saputo fare il salto, di essere sempre rimasti nell'ottica isolana e bisogna un po' riuscire a questo approccio.